Ciao ragazzi, cominciamo con una diretta dedicata ai anestetismi delle cellulite, non solo. Volevo controllare che parto in diretta perché ovviamente l'anestetismo delle cellulite è un problema di tutte le donne, a volte ancora più importante quando entriamo in menopausa e voglio che tutte le mie amiche là fuori non prendano il panico perché si può letteralmente trasformare le gambe con le vibrazioni. Le vibrazioni perché sono importanti, le vibrazioni si usano per ovviamente massaggiare, ridurre aderenze e ridurre, riuscite a vedere diciamo la vibrazione, quelle vibrazioni quando entra nella mia pelle mi aiutano con ovviamente le aderenze del tessuto connettivo in modo indolore, ok? Indolore perché quando noi vediamo un massaggiatore che dice ti devo scollare, ti devo scollare il tessuto, non so se riuscite a vedere la vibrazione, questa vibrazione mi aiuta a morbidire le aderenze, aspetta velocizzo poco a poco, morbidire le aderenze che possono essere create dal tessuto connettivo. Il tessuto connettivo, il microcircolo con l'età, con le menopausa, con i cambiamenti ormonali possono diventare sempre irrigidito, noioso e fastidioso, ma la vibrazione ci permette uno di aumentare il microcircolo della zona in modo lineare e anche piacevole e questo ci aiuta. Possiamo usare le cupping, le coppe e le pistole massaggiante è anche eccellente per contratture, così se abbiamo contratture, non so se perché non riesco a vedere da questo, diciamo, da queste distanze se riuscite a vedere tutte queste vibrazioni che stanno entrando e stanno migliorando. Contratture, microcircolo, tessuto connettivo, ok? Ovviamente la posso utilizzare anche a livello della spalla, ok? Io soffro proprio di contratture sulle spalle perché faccio tanto pesi e questo mi aiuta anche a decontratturare la spalla. Aspetta, mi metto giù così, magari vedete meglio la vibrazione, ok? Vedete come entra e immaginate questo massaggio, no? Quante volte che avete voglia di essere ammassaggiato da qualcuno e dici, ti prego, aiutami con questa contrattura e cominciano a darti un massaggio e poi dopo pochi secondi ti dicono, no vabbè, sono stanco? Invece tu puoi massaggiarti da solo con le pedane vibranti. La pistola è massaggiante e questa è un primo opportunità, ovviamente, non low cost, però insomma è un po' più abbordabile per tutti quanti che vogliono avere un miglioramento sui anestetismi delle cellulite o su contratture. Ma andiamo avanti perché ho anche la pedane vibrante e la pedane vibrante è il nostro mega aiuto, anche sportivo, ok? Dove la pistola massaggiante ci aiuta a massaggiare, drenare e migliorare la qualità degli anestetismi delle cellulite massaggiando il tessuto connettivo. Quando abbiamo le pedane vibrante andiamo a potenziare veramente anche i muscoli, ok? La pedane vibrante mi aiuta non solo a fare lo stesso effetto della pistola massaggiante, ossia questo massaggio del tessuto connettivo, ma mi sta aiutando anche a contrarre i muscoli che mi aiutano in dieci minuti ad avere l'equivalente di circa 30-40 minuti in sala pesi. E vi spiego perché. Allora, molte persone dicono ma come è possibile, ma che stai dicendo, ma eccetera, eccetera, eccetera. Sono molto abituata ai scettici, non è che un ascettico mi farà smettere di fare il mio lavoro perché sono una curiosa di natura, una studiosa di natura, mi piace fare le foto prima e dopo. Adesso non ho la foto prima e dopo con me, magari più tardi ve la metto qualcosa sotto nei commenti così vi faccio vedere un po' di foto prima e dopo. E tutta la mia passione di questo viaggio dell'inestetismo e della cellulite con le pedane vibrante è nata per caso. Perché io prendo le pedane che innanzitutto vedete che sono con le ginocchia piegate, le mie piedi sono frontali, sto vibrando, questa è la mia nuova pedane vibrante che sta piacendo tantissimo, devo dire sta volando via, anche perché abbiamo uno sconto speciale, 189,90 euro, ma se clicchi nella descrizione di questo video, sta nella descrizione, molte persone mi scrivono, dove trovo il prodotto? Il prodotto lo trovi nella descrizione, c'è il link, clicchi sopra ed è scontato di 70 euro, da 249 euro a 189 euro, ma se usi il codice welcome10 avrai un ulteriore 10% di sconto, che vuol dire un altro 19 euro che ti porterà a, oh cavolo, 169, sto sbagliando, 170? Sì, 170 euro per una pedane vibrante che ci permette di letteralmente migliorare l'inestetismo delle cellulite. Perché? Tanti anni fa, io questa non so quale generazione di pedane vibrante che presento, sarà quasi la settima generazione, ho fatto sette diverse tipologie di pedane vibrante nella mia carriera e sono diventata un'esperta, capisco quello che serve, sia come potenza, come metodologia di vibrazione, come tanti tanti fattori che diventano il mio patrimonio intellettuale, è mio, come sono esperta di produrre i trampolini, sono esperta anche sui pedane vibranti. Quello che serve, non ti preoccupare, sta dentro questa pedana. Ma, che cosa è successo? Un paio di anni fa, prendo una generazione X, terza o quarta generazione, faccio le foto, prima e dopo, come faccio sempre, facciamo la challenge, 20 minuti al giorno per 10 giorni, vediamo che cosa succede. In 10 giorni, vedrete, la metto dopo le foto, sui commenti, te le ho posto le foto, sono rimasta scioccata, perché ho visto la gamba liscia, senza aderenza, cambiata. Cosa che, onestamente, se noi vediamo un'amica che ha un cellulite conclamato, terzo livello, quattro livello, un stadio molto rigidito del tessuto connettivo, cioè, dici, amica mia, c'è poco da fare, no? Anche se ci sono macchinari, c'è endermologia, c'è l'LPG, c'è vacuum terapia, ci sono massaggi, ci sono tante cose, però è lungo, doloroso, perché quello, veramente, se hai tante cellulite, c'è anche tanta infiammazione, c'è tanto noia. Questa è, ho visto, sono rimasta, come si dicevamo, sciocobasita, cioè, wow, cioè, che cosa è successo? E ti spiego adesso che cosa abbiamo capito. Allora, l'oscillazione che state vedendo sulla carne, ci aiuta con le aderenze, le aderenze del tessuto connettivo. Questo tessuto connettivo, in modo indolore, talmente repentino, talmente profondo, talmente veloce, mi sta aiutando a avere una, diciamo, una sorta di spiana, cioè, ci aiuta le aderenze di rilassarsi. Così, il primo aspetto è, i bozzetti, la pelle a materasso comincia a migliorare. Dall'altra parte, qua sotto, le vibrazioni mi stanno facendo contrazioni, molto, molto veloci, queste contrazioni, c'è un microcircolo, infatti, la petana vibrante ha una controindicazione con persone che hanno problema capillare, della fragilità capillare, devono affrontare le vibrazioni in modo diverso, non è che non possono fare la petana vibrante, ma in modo diverso, perché magari deve prendere prima farmaven, una copertura di farmaven per due o tre settimane, sicuramente devi cominciare con una vibrazione moderato e piano, però possiamo aiutare le vene ad essere più forti e più fortificati. Cioè, non è che io rimango, di nuovo sciocco basita, quando vedo una persona, dice, ho protesi al lancro e non faccio più niente. No! Ho protesi al ginocchio e non faccio più niente. No! Anzi, dovresti lavorare di più, non di meno, perché devi proteggere la protesi con i muscoli, devi proteggere, cioè le vene sono dedicate, devi fortificarli, non puoi lasciarli che sono deboli e non faccio niente per fortificarli, né i muscoli, né i integratori, né qualcosa che può facilitare il mio microcircolo. Cioè, andiamo per la logica, perché il corpo invecchia sempre. Che cosa possiamo fare per invecchiare bene? Le vibrazioni ci aiutano tantissimo. Così. Perché mi fa muscoli? Perché mi fa fare muscoli? Perché? I miei muscoli, qua sopra, entrano in contrazione alla stessa velocità delle vibrazioni stesse, perché i miei muscoli stanno provando di smorzare l'entrata delle vibrazioni, perché è percepito come uno stressore. Noi stressiamo il corpo quando ci alleniamo, ok? Però è un stress positivo perché potrebbe instigare o aumentare o incrementare un risposto fisiologico, che si chiama un adattamento fisiologico sistemico. Così il mio corpo dice, oh, c'è questo stimolo, mi devo fortificare per proteggermi. Stessa cosa quando noi alziamo i pesi in sala pesi, il nostro corpo dice, ah, ok, sto zappando la terra, devo costruire più muscolo. E tutto questo lavora insieme per darci una contrazione 300% nostro massimale. Cioè noi facciamo un lavoro isometrico, se io spingo mano contro mano, sono in un esercizio isometrico. E se io misurassi questa potenza della mia forza in isometria, la pedale vibrante mi porta a una soglia di 300% mio massimale. è tre volte più contratto mio muscolo di quello che potrei fare attorno a mia mente. Ecco perché 10 minuti della pedale vibrante equivalgono a 30 minuti di sale pesi, perché mi porta a 300% la mia massimale senza i ricuperi. Senza i ricuperi in sale pesi, magari faccio un esercizio, poi mi interrompo per 50 secondi, rifaccio un esercizio, poi interrompo e c'ho sempre pause. C'è 30 minuti in sale pesi, non è 30 minuti ininterrottamente di lavoro. No, è quattro serie con 12 volte, ricupero, sono stanca, ritorno qui, rimango in uno squat attivo per 10 minuti senza mai recuperare con queste vibrazioni che portano i miei muscoli a 300% loro massimale. L'altra cosa è che tutta questa attività, shakeraggio della pelle, sta aiutando a stimolare il mio fibroblastio a produrre più collagene e collagene ci dà un effetto lifting sulla pelle. Così, piedane o pistola, le vibrazioni sono positive o benefiche per il corpo. Questo è stato approvato da professor Bosco, è stato, si chiama Whole Body Vibration, lo potete vedere online, potete vedere su diversi studio scientifici, su PubMed, Whole Body Vibration, vuol dire prendere il mio corpo e lo shakerò tutto e questi sono i benefici. Ovvio, va preso con cautela, va fatto utilizzato con il cervello, cioè non è un giocattolo, una pedana vibrante e non ho mai insinuato che lo fosse, o la fosse. La pedana ha bisogno di essere utilizzata con criterio, gambe sempre piegate, senza far vibrare le voci o la vista, con integratori per le vene, se è necessario, se è un problema nel microcircolo, ma il beneficio per il livello dei muscoli, delle ossa, delle articolazioni, della pelle e degli anestetismi, delle cellulite, è qualcosa di straordinario. E siccome è l'offerta della settimana e noi abbiamo ancora il tempo di farlo arrivare a casa vostra con il tempo per Natale, questo è il momento di agire. Ci sono anche le spese di spedizione gratuite e c'è anche la possibilità di pagarlo a rate, perché abbiamo una clarna su gilcooper.it che ti permette di registrarti rapidamente con una carta di credito e potresti prendere questa pirana in tre rate. Se utilizzate Welcome10 avrete anche 10% di spese, scusami, 10% di sconto, è finito, è finita la nostra vibrazione e potremo fare un bel kit per noi per aiutare con gli anestetismi delle cellulite, qualità delle pelle, muscoli, yes! e portiamo a casa anche un attrezzo che ci permette di avere un allenamento per i nostri non sportivi. Ci sono delle persone che dicono che non hanno tempo, 10 minuti di pedana ce l'hai, non ho spazio e tanto è poco compatto e io la inserisco qua sotto fra due secondi, la metto sotto il mio televisore e ce l'ho. La posso mettere mentre cioè sto lì, rispondo sui social mentre sto sulla pedana vibrante, ovviamente gambe piegate, però è per coloro che vogliono migliorare gli anestetismi delle cellulite, vogliono avere un risultato, vogliono allenarsi anche quando sono stanchi, sfranti, non c'è più nulla da investire energeticamente nel vostro allenamento ma la pedana vibrante mi permette di salire sopra e ci pensa lui o lei quando vuole e per il resto è divertente perché dà tanti risultati e non c'è, non esiste un altro attrezzo genico che ti può dare le stesse identiche risultate perché è veramente unico. Allora, voglio vedere se ci sono delle domande. Mac si può, ok, ci sono, ok, vado a rispondere adesso le vostre domande. Ciao Maria, ciao Adella, ciao Federica, Rosita, ciao, top, Samantha, Simona, Pino, grazie, sei molto gentile. Allora, Alba mi chiede, Mac si può prendere tutti i giorni o è troppo? Ma la Mac è è un grandissimo energizzante, grandissimo energizzante che è anche, io l'uso la macca saltuariamente per non farmi assuefare il corpo e non abituarsi troppo. È un adatto genico, energizzante, ci aiuta anche con la fame ed è anche leggermente tonificante per i muscoli perché stimola la produzione del cestor sorone, così ci aiuta. E anche per gli uomini è un forte aiuto per virilità. Pensa, la macca è eccellente per gli uomini per avere più virilità, aiuta anche la crescita muscolare. Tutti i giorni, magari possiamo fare un blocco di tempo, 15 giorni, poi interrompiamo, o io personalmente uso la macca quando sono stanca o quando ho una giornata impegnativa tipo Rimini, uso anche due macca al giorno, la mattina. Prendetela solo la mattina, grande energizzante e questo vado usato e se lo prendi un pomeriggio la macca potrebbe incidere sulla qualità del sonno perché veramente non ti dà tachicardia assolutamente ma ti tiene sveglio, molto sveglio. Allora, ciao Jill, le scarpe si devono mettere o si può fare anche a piedi nudi. Allora Katia, di solito noi usiamo le scarpe con una pedana vibrante perché è molto sollecitante e dovrebbe un purito di quelli che ti ricordi per anni a venire, la parte scherza lo potresti fare ma molto sollecitante sui piedi così se volete avere un diciamo non avere il purito sui piedi è meglio la scarpa. Non so mai quale velocità metterla purtroppo. Alessandra, allora, la velocità deve essere una velocità che riesci a tollerare per le dieci minuti consecutive. Se tu vedi che è blanda non lo senti la stanchezza perché un po' di calore, un po' di stanchezza la devi sentire. non è proprio acido lattico non sarebbe quella la parola giusta ma senti che stai lavorando se è troppa che è noioso che ti dà fastidio o crea troppo acido lattico riduci però devi trovare una velocità che è perché è veramente singolare io non posso entrare nel tuo corpo a giudicare qual è la velocità giusta però già se stiamo vibrando sarà subito un risultato se tu hai problemi capilari mi raccomando è meglio errare nella velocità minore che è una velocità troppo veloce io mi metto il mio me la metto sotto il letto Cinzia ci sta confermando che è poco ingombrante buongiorno Anna Maria io quella tonda mi puoi spiegare i programmi allora i programmi i programmi sono una variazione di velocità né più né meno a volte e sono uno vale l'altro perché uno magari heat uno è più diciamo a fartlek uno è più a tabata e sono variazioni così ti portano magari a 10 per un minuto poi ti portano a 18 per un minuto poi 10 questo anche è un allenamento per i capilari se vogliamo dire perché comunque la velocità e il cambiamento delle velocità ci aiuta riscaldare il muscolo e poi dare un picco di intensità come facciamo in un allenamento heat personalmente preferisco lavorare a manuale perché mi piace avere una costanza nella vibrazione però diciamo non posso dire che è meglio o peggio è sempre una preferenza personale perché a volte le persone vogliono tutto a che ora a che minuto devo fare questo questo e quest'altro la verità il corpo è molto elastico e interagisce con i stimoli che gli dai poi Simo dice lo sto facendo ora brava Simo Nina buongiorno anche a te vorrei poter fare le braccia e la schiena allora Anna per le braccia e la schiena troverai tante delle mie allenamenti online su YouTube o sulle mie palestre online e queste sono tutte le opportunità che poi potete vedere comunque per essere stimolata per essere stimolata per fare il vostro allenamento volevo fare questo bellissimo tutorial oggi dedicato alle vibrazioni perché sono molto importanti per decontratturare rilassare aumentare il microcircolo nel corpo ricordate che la pelle ama il microcircolo ama essere ossigenata ama essere irurato di diciamo di tutto quello che è positivo del microcircolo che il microcircolo porta nutrienti ossigeno elettroliti tutto quello che serve per la salute cellulare e le vibrazioni sono anche eccellente per ridurre le contratture le contratture bloccano il microcircolo e anche possono creare mal di testa mal di no? mal di qualcosa perché quando si il contratto ti muovi di meno e ovviamente riduce la qualità proprio della vita perché quando siamo bloccati non è piacevole comunque volevo dire mandatemi vostre immagini vostre domande metterò le immagini delle prime dopo su questo post sotto questo post prenderò quella foto le metterò così la potete vedere prima dopo con una pedane vibrante e l'offerta della settimana gilcooper.it ricordate potete paragarlo a tre comodissime rate con clarna potete usufruire del 10% di sconto con welcome 10 se siete un nuovo cliente su gilcooper.it e per resto arriverà entro Natale se l'ho ordinato oggi o domani perché abbiamo ancora il tempo di fartelo arrivare sotto l'albero bacio dalle gile passate una giornata spettacolare vi voglio bene ciao grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.